è governatore della campania Vincenzo De Luca e la festa di Halloween governatore della campania Vincenzo De Luca e la festa di Halloween il governatore della campania Vincenzo De Luca che sia chiaro è uno dei più potenti governatori d'Italia e è stato recentemente confermato governatore quindi vuol dire che lavora bene recentemente ha detto che la festa di Halloween sarebbe una festa un po' imbecille una festa un po' imbecille la festa di Halloween no la festa di Halloween la notte la notte la notte la notte di Halloween Halloween beh caro governatore Vincenzo De Luca che per me sei tanto bravo che sia chiaro ma la festa di Halloween non è una americanata la festa di Halloween non è che noi italiani l'abbiamo importata dagli Stati Uniti no, no è vero il contrario sono gli Stati Uniti che hanno importato da loro la nostra festa di Halloween e la festa di Halloween era una festa celtica i Celti i Celti i Celti stavano nella pianura padana i Celti stavano nella Gallia nella Britannia nella Spagna nel Portogallo in tanti altri posti i Celti i Celti c'era il grande impero celtico che poi fu sfasciato dalle regioni romane Gaio Giulio Cesare conquistando la Gallia ha conquistato una delle nazioni più potenti dei Celti i Celti i Celti l'impero celtico ripeto andava dalle Highlands anzi andava dalla Scozia dall'Irlanda dalla Britannia attraversava l'Europa centrale la penisola iberica la valle padana la Jugoslavia l'impero celtico arrivava persino in alcune zone dell'attuale Anatolia c'era la lettera di San Paolo ai Galati i Galati i Galati i Galati erano Galli erano Celti 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 ripeto poi le legioni romane hanno sottomesso le popolazioni Celtiche è nato l'impero romano e i Celti si sono romanizzati e poi sono stati cristianizzati nel tempo di Costantino e di Teodosio tra il 300 tra l'inizio del 300 e la fine del 300 nel quarto secolo dopo Cristo i Celti dividevano l'anno non in quattro stagioni come facciamo noi caro governatore ma in due stagioni c'era la stagione calda e la stagione fredda la stagione fredda iniziava il primo novembre e si concludeva il 31 maggio la stagione calda iniziava il primo giugno e si chiudeva il 31 ottobre la notte la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre o tra il primo novembre e il 2 novembre era la festa di Halloween per i Celti la festa di Halloween era la festa la cerimonia nel corso della quale di notte di notte di notte Halloween e di notte nel corso della quale di notte i morti i morti escivano e escivano da sottoterra da sottoterra di notte escivano i morti escivano una volta all'anno per i Celti nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre o il primo novembre e il 2 novembre i morti escivano da sottoterra tutti incazzati contro i vivi che erano ancora vivi e allora i Celti si difendevano dai morti dai morti con le zucche scavate scavate svuotate poi si facevano due fori per gli occhi un foro per il naso un foro per la bocca ci si mettevano dentro delle candele e i ragazzi con queste con queste zucche zucche scavate con dentro le candele i ragazzi andavano in giro per i villaggi per i villaggi e così mettevano paura ai morti e i morti non venivano a fare del male ai vivi è una festa celtica è una festa europea per quanto riguarda l'Italia caro governatore Vincenzo De Luca la festa di Halloween era una festa che si faceva nella valle Padana poi non si sa come questa festa celtica Halloween la notte che poi i cristiani hanno diviso la festa celtica che durava una sola notte l'hanno divisa in due giorni perché prima c'è per noi cristiani prima c'è il primo novembre che è la festa di tutti i santi poi c'è il 2 novembre che è la festa di tutti i morti ma per i centi la festa era una sola una sola poi dopo la seconda guerra mondiale non si sa perché questa festa questa festa è sparita è sparita dalla valle Padana e se la sono presa negli Stati Uniti poi sono le vicende poi questa festa Halloween dagli Stati Uniti è tornata in Italia e riguarda tutta l'Italia non soltanto la valle Padana quindi è una festa caro presidente Vincenzo De Luca che ha a che fare con il nostro passato celtico perché l'Europa l'Europa prima di essere romana fu celtica fu celtica caro Vincenzo De Luca potentissimo governatore riconformato io ti voglio tanto bene caro sai bene 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 caro governatore e tu mi hai offerto l'occasione di ricordare agli italiani che cos'è la festa di Halloween non è un'americanata è una festa europea dei celti dei celti poi dopo la seconda guerra mondiale mondiale si era sorpresa agli americani e da noi è sparita ma poi corsi e ricorsi storici di Giovanni Battista Vico di Napoli la festa è ritornata qua da noi va bene caro governatore a te caro governatore Vincenzo De Luca e a tutti voi tanti cari saluti da dalla stirpe del serpente grazie a tutti grazie a tutti